apertura numero 18 21 17 12 16 25 21 questa è una 1 nero un piccolo vantaggio iniziare per il nero ci sono più varianti giocabili quindi a livello di variabilità non è semplice anche se tutto sommato non non ne scatturiscono partite particolarmente complesse vediamo una variante principale con risposta del nero 10 14 il bianco fa 22 18 allora 7 12 la vedrei subito dopo vediamo prima la variante con 5 10 con risposta a 27 22 8 12 31 27 posizione non facilissima inizialmente per il bianco diciamo che se la gioco un principiante secondo me si trova più in difficoltà col bianco che col nero vediamo come prosegue 25 qui magari alcuni giocatori potrebbero anche fare questo errore qua vedete che c'è il tiro il tiro 3 quindi attenzione a non spingere senza criteri pezzi verso il centro allora 25 corretto e poi c'è da fare questo cambio non facilissimo anche se come vedete qua praticamente l'unica mossa questa 23 20 compresa verso la casella 20 perché per esempio questa mossa qui è perdente perché dopo il tiro 2 c'è la ripresa 16 per 23 oppure 24 20 eppure perdente perché c'è direttamente questo tiro vedete il nero sacrifica due pezzi e poi fa il tiro 3 altrimenti la 29 25 eppure perdente un attimo allora allora 28 12 29 25 ok no prima facciamo 31 27 ok 25 ecco dicevo qua 29 25 perdente sempre allora per questo tiro qua quindi sono tutte perdenti e quindi arrivati a questo punto l'unica mossa per il bianco è questa 23 20 x x 12 15 28 23 c'è quest'altro cambio ora qua il bianco al bianco converrebbe fare il 2 per 2 non so se ci sono altre possibilità ma credo proprio di no direi di no quindi le due per due sono obbligatorie qui si può scegliere se catturare per di qui ma si perde come vedete quindi bisogna andare a dama logicamente muovere la 21 18 perché in 21 non ce ne facevamo nulla e poi dare questo cambio in modo che si mette in gioco la dama e il nero rimane con la 18 esposta adesso c'è questo sacrificio vedete per il nero anche il nero qua deve saperla per poi andare ad attaccare non so se il nero non fa il sacrificio rischia di mettersi male vedete sacrificare adesso il vantaggio per il bianco è decisivo vedete ok quindi vediamo come si risolve questo finale il sacrificio nero attacca fa un'altra dama ovviamente qua può fare forchetta con la dama attaccando due pezzi in una sola mossa il bianco fa 22 19 lascia la presa al nero 27 per 20 dopodiché 9 13 7 12 e si pareggia bene vediamo un'altra variante forse un po più semplice con 7 12 7 12 ecco qua si può fare 26 22 non so se ci sono altre soluzioni probabilmente si può anche fare 23 19 ma io farei 26 22 come suggerisce il programma e poi vediamo cosa si può fare queste sono le mosse quasi riattacca sono molte prese quindi direi che questa variante il nero la può giocare pur sapendo che pur consapevole che se il bianco conosce la continuazione corretta si semplifica subito la partita vediamo al posto di 26 22 non saprei quale può essere la migliore forse 23 19 anche vero che qui il nero volendo può anche farle due ma non gli conviene secondo me perché poi è un po sbilanciato quindi qua il nero fa la 6 10 attenzione che qua il bianco non deve farsi fare tiri c'è questo tiro per esempio se fa questa mossa è molto debole perché con la 26 che è una mossa forte spesso in queste 21 17 per il nero il bianco adesso è a tiro dopo questo cambio c'è ben poco da fare anche se non si vede subito la vittoria però si vede che il bianco è subito subito legato va bene e allora sì qua anche questa mossa non può essere fatta c'è il tiro da questo lato oppure questa nemmeno perché c'è il tiro a due io rimango ok ma c'è la 16 23 per un pezzo per cui niente qua l'unica mossa è coprire 27 23 poi c'è 26 26 22 12 15 x x 29 25 io qua stavo pensando a questa si può anche fare poi forse 19 15 qua c'è una 29 26 per niente facile se adesso io per dire andassi ad attaccare perderei perché c'è poi il tiro il nero fa dama quindi io non posso attaccare non posso neanche fare 22 19 perché c'è il tiro a due quindi qua o 29 25 ma forse meglio 29 26 è uguale proviamo 29 25 che credo che è la mossa che potrebbe capitare in partita c'è lo stesso il tiro a due qua però il bianco riesce a sfondare le difese pian pianino ecco adesso qua il nero potrebbe anche far dama subito adesso vabbè qui allora vediamo allora se il nero fa dama anche il bianco la fa se invece qua il nero aspetta il bianco attacca 21 17 si ok questo è anche un possibile finale provato a giocarlo nel modo più logico possibile ok adesso vediamo posto di 7 12 vediamo la 8 12 ok questo non l'abbiamo vista dopo 15 22 19 vedete che il bianco cerca di legare questa fila dalla 5 alla 14 11 15 x 7 per 14 18 per l'onese 6 per 15 ora facciamo 31 27 minacciare un tiro a 2 se mai potrebbe servire il nero lo evita con questo cambio 28 23 x x io adesso credo che che farei 21 18 no 27 22 perché 21 18 è perdente infatti sì 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 che dopo se vado a coprire dopo non posso attaccare perché c'è il cambio e qua adesso perdo perché sono a tiro vedete c'è questo sacrificio e poi c'è il tiro non lo posso evitare potrei fare questa sì però piano piano rimarrei sempre sotto tiro vedete non c'è nulla da fare c'è il tiro a 2 ok torniamo indietro e facciamo la mossa corretta 27 22 12 15 23 19 anche qui 21 18 e perdente come prima quindi facciamo 23 19 xx 30 27 16 20 e qua siamo noi che riusciamo a formare una fila col bianco cercando di andare a sfondare per il pareggio poi è quindi le minacce per il bianco sono finite e così un tre contro tre in il pareggio vediamo anche vediamo anche quest'altra variante qui 11 14 22 18 e c'è questo cambio questa è tutta una una partita con attacco e difesa attacco e difesa vedete io adesso alzo la 30 cercando di andare ad attaccare la 19 queste partite a volte portano alla pari altre volte portano uno dei due colori a mettersi male ma in questo caso seppure il bianco non ha una bella posizione nella zona del biscacco riesce a fare la difesa di patta ecco qua bisogna sacrificare perché come vedete qua se no si subiva si subirebbe il tiro anche col tiro e pari mi sa sì sì perché siamo già da ma adesso io qua potevo anche non da mare subito evitando quindi quel cambio forzato ma potrei fare un ultimo tentativo di mettermi meglio nel finale ma direi che non serve a nulla qua potrei prendere questo pezzo siamo pari pezzi adesso sì altrimenti volevo vedere quel sacrificio allora 13 10 allora prima faceva 13 10 26 22 il maestro si è perso facciamo meno di lui allora 8 12 allora 24 20 e quasi c'è questo tiro adesso io non so se era evitabile no non era evitabile per niente adesso capisco meglio quella il perché di quel sacrificio bel sacrificio e poi il tiro a due è inevitabile sì sì buono dai per finire vedrei l'ultima variante anche se è un po' semplificatoria 11 15 c'è subito questa presa a due secondo me qui il nero spreca un po del suo vantaggio il bianco potrebbe anche fare questa di presa non so quale sia meglio e anche è anche vero che a quella posizione con 21 per esempio se fa questo errore perde c'è il tiro a tre vedete quindi quindi qua o facciamo 27 23 complicando un po l'apertura non è molto facile a giocarla così per niente direi oppure 22 18 non va neanche bene aspetta allora 22 18 subito da fare subito xx 28 23 15 e poi qua facciamo le due questo è una possibilità oppure se catturiamo 27 per 11 c'è un po più di equilibrio adesso il nero non fa 10 14 se la fa io farei 10 14 sinceramente per complicare un po le cose 32 28 47 28 23 8 12 31 27 12 16 29 25 21 18 xx sì anche questa è una bella partita non è ancora finita per il bianco nero andato a dama prima adesso portiamo una pedina in 15 e forziamo la damatura ci prendiamo la 10 quindi addirittura il nero fa pari sotto pezzo insomma però abbiamo visto che anche qua anche in questo caso diventa una partita complicabile se se il bianco non fa le mosse giuste al momento giusto provo a giocarla io magari volendo io potrei anche fare subito le due ok così è persa non ho visto ok vediamo un po no così mi metto male non va bene 30 27 24 20 la sto giocando male anche questa non va bene così va bene 32 28 e lebole sì qui ogni mossa può essere letale ecco questa 12 16 12 porta al pari immediato non avevo proprio vista però sinceramente dopo non la saprei continuare adesso si può fare 32 28 nero fa 48 non facile anche così per niente facile va bene una pari sotto pezzo va bene prima che mi fondo il cervello del tutto faccio terminare qui l'apertura la prossima sarà l'apertura 19 ciao